Pa 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 pao l'prezzo che bella? E che finale che è ha? Bellissima e andiamo avanti vegetable ma Lenni ma scusa ma tu sei comunque così dolciosa sempre per via di quella cosa lì? insomma che si può dire ti ste tune con 79 persona, no? Quanti mesi sono? Perché di questo? Sei mesi. Sei mesi. Eh, non sono pochi sei mesi. Vieni qui, Lady. Vieni. Vieni, cazzo. Non aver paura. Sei mesi. Non credi che sia ora di dirglielo anche a lui, però? Così, tanto per dopo sei mesi magari glielo puoi anche dire a lui, no? Va bene, ciao. Grazie di culo. Grazie di culo. Ma che cazzo dico? Niente. Grazie di culo gli ho detto. Gli ho detto grazie di culo. Grazie di culo. Grazie di culo. Ma che cazzo dico? A foto. La regola ha messa a fuoco. Ok. Se la metto così. Raffanculo. Porca puttana. Porca puttana. Ho fatto una mezza cazzata. Fermi. 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 Fermi tutti. Vieni qua, Ciacchi. Vieni. Allora, ascoltami bene. Io adesso chiamo il mio amico avvocato. Tu non rispondere al telefono. Lei era maggiorenne. Era maggiorenne. Tu di che non lo sapevi. Ok? Tu di che non lo sapevi. Tu di che sapevi che era maggiorenne. Non sapevi che era minorenne. Stai zitto. Non risponderò al telefono per qualche giorno. Ci penso io. Adesso chiamo il mio amico avvocato. Sistemiamo tutto. Ciacchi. Te hai il tuo vizio di sfruttare la tua bellezza per queste cose. Stavo pulendo il pc del negozio della mia mamma. È l'ardissimo e mezzo rovinato. Ah, ok. Ok, niente. Perfetto. A posto. A posto così. Continuiamo il gioco. Sento che in te c'è del valore. Ma lui? No, lui è un drogato. Niente. Lui si droga. Allora, Romano. Mi metto a competere con uno che fa finta di essere Romano. Fa finta. È Romano? Fa finta. Basta, a piander secchio, rogerì, ti pipì. Fa finta. A cosetta. Vieni qua, cosetta. Vieni qua. Io vengo da là. Te scappo gli occhi. Ti metto sulla schiena. Così quando ti piacarci in culo, te lo vedi in diretta in 4K pure. Dai, non c'è confronto. Dai, non c'è confronto. Sono più romano di te. Dai, non c'è confronto. Dai, che ve lo dico? La puttana. La puttana po'. E che cazzo. E che cazzo. E di nuovo l'uccello enorme. Ancora. Roger! Roger, son qua. Son qua, son qua. Ho visto due indiani di America litigare. Per fortuna hanno fatto la pa. Mi raccomando, non date retta a quelle cavolo di mail che dicono che vi si allunga il coso. Non date retta. Non funzionano. Me l'ha detto un mio amico. Si di merda. 25 euro buttati nel cesso. Vaffanculo, va. Comunque. Ah dai. E stasera lavori? Ah, ho capito. Stai imparando a parlare la tua lingua. Eccolo qua, Cri. Eh? Eccolo qua. Ma che bello che è. Piccolo godurioso bastardo che non sei altro. Un maiale. Un piccolo criccetto perverso. Eh? Ma raccontami, ma quando sei andato davvero? Cosa hai fatto? Ma dai. Ma pensa a te. Ma che roba. Questa è Cri. Salutatelo. Eh? Salutatelo. Questa è lui. Adesso te la dai una calmata? Altrimenti lo sai. Io ti entro in casa e ti cago sulle piante. Ok. Ok. A posto. Stavi dicendo qualcosa Cri? Non me lo fa mettere da nessuna parte. Ok, detta così. Come apre la porta la regina Elisabetta con la chiave inglese? Ok. E' solo perché mi hai presa la sprovvista. Cazzo no. L'ho acchiappato là dietro stavolta. Adesso non mi perculate però. Ora non mi perculate eh. Testare calmissimi dove testare. Ogni tanto confondo è vero, per stavolta no. Ti donati i bittini e tu ringrazio i merda. Oh cazzo è vero. Che figura di merda. Che figura di merda. Perdonami boffino. Perdonami. Che figura di merda. Grazie di cuore boff. Mamma mia che figuraccia. Niente. Sono stanco dai. Sono stanco. Mettiamola così. 5 contro 1. Com'è? Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti